Iniziamo il video con un ringraziamento Ringraziamo Andrea che ha acquistato la nostra maglietta disegnata da voi e che ce l'ha inviata Dunque oggi abbiamo un regolatore di tensione, uno statore del PX, un interruttore dello stop del GTR sprint veloce e un comulatore nonché in piante elettrico Vedremo come fare l'adattamento per rendere elettronico il TS e simili Una premessa questo tipo di modifica serve a eliminare l'impianto a puntine e ad avere in effetti anche una potenza maggiore di illuminazione perché lo statore del PX ha 90 watt effettivi e il circuito è uno solo a differenza di com'è quello del GTR, TS e sprint veloce Attenzione però questa modifica è fattibile senza sostituire blocco motore cosa che non si può fare perché questa modifica è qualcosa che si utilizza in genere anche per la circolazione su strada e noi siamo molto attenti a questo profilo cioè un conto sono le ricette e elaborazioni che vanno per le corse un conto sono le cose che costituiscono adattamenti Ora specialmente TS e sprint veloce nell'ultimo periodo sono stati prodotti con carter identici a quello dei PX prima serie quindi con l'albero del PX e il cono grande Alla fine l'adattamento è molto semplice e il motore tra l'altro del TS come sapete rega la stessa sigla di quello del PX prima serie VNL 3M su un GTR ci sarebbe il problema bisogna ricorrere alle accensioni elettroniche che vendono in kit più costose ma che sono adattabili a quei motori perché sostituire il motore e circolare per strada assolutamente non è possibile a onor del vero non vogliamo far passare come ordinario e fattibile e possibile questa modifica perché in realtà si cambiano delle caratteristiche che richiederebbero anch'esse un'omologazione però è ben altra cosa rispetto a un'elaborazione del motore che ne modifica la potenza qui non si modifica la cilindrata la potenza non si modifica nulla si rende il mezzo solo più affidabile alla fine quindi sono cose che non dovrebbero essere nei limiti dell'ammissibilità molto diverso il caso per esempio del freno a disco sul freno a disco possono fare storie per dire tanti mettono il freno a disco sui PX che non lo avevano in origine questa è una cosa per cui perché si vede è evidente ed è un'alterazione del sistema frenante dopo questa doverosa premessa vediamo al sodo allora abbiamo un impianto elettrico questo è GTR sprint veloce TS hanno una particolarità questi impianti elettrici che sono divisi in tre rami e sono fatti al contrario cioè il circuito a fari spenti il circuito i rispettivi rami sono cortocircuitati quindi c'è una bobbina che alimenta lo stop un avvolgimento perché poi ci sono bobbine comuni comunque un avvolgimento che alimenta lo stop un avvolgimento che alimenta le luci di posizione e un avvolgimento che alimenta il faro grande il più potente un abbagliante abbagliante e anche il clacson in serie perché quando le luci sono spente e il pedale dello stop non è premuto i rispettivi rami sono cortocircuitati cioè sono messi a massa per questo non si può fare il trapianto diretto perché altrimenti o si cammina con tutte le luci accese il pedale dello stop spinto un po' senza frenare tutto è acceso oppure come si molla una cosa si spegne tutto perché viene messo in corto dopo questa doverosa premessa veniamo alla fase operativa dunque questo è lo statore del PX io non mi soffermerò su quello che riguarda l'accensione vera e propria perché tanto quella è una cosa facile al posto della bobbina ci sarà la centralina ad alta tensione si attaccano i soliti fili bianco rosso e verde e tutto fila liscio e lo spegnimento per lo spegnimento si usa il rosso dell'impianto ma ci si tratta solo di attaccare il rosso dell'impianto al posto del verde sulla centralina del PX il verde di spegnimento ed è finito tutto semplicissimo il problema è sulle luci allora questi due fili nero e blu sono quelli che portano la corrente prodotta dal generatore le quattro bobbine non è che c'è un negativo e un positivo perché questo qui è un generatore un alternatore quindi è in alternata però il negativo viene poi messo a massa quindi il blu è il cosiddetto positivo potete considerarlo come tale anche se non lo è allora negativo massa e chiaramente questo è il regolatore che dovrà essere poi posizionato in vari modi si può fare lo attaccato alla centralina stessa con una staffa aggiuntiva messo in questo modo sotto una staffa piegata che lo fissa a uno dei bulloni che chiudono il carter e poi una fascetta che lo tenga la centralina bisogna stare attenti perché appenderlo solo si può spaccare qualcosa quindi va fissato anche ci vuole un vincolo rigido e questo è un modo non invasivo di farlo per non fare fori sulla carrozzeria per non fare pasticci sul vespe di pregio dopodiché allora nero massa e negativo del regolatore azzurro alla terza linguetta all'ultima questo qui è l'ingresso invece questa qui è l'uscita il positivo di uscita ok il positivo di uscita deve essere collegato all'impianto prendiamo l'impianto ecco questa è la parte che che arriva alla scatola dei fili no queste li conoscete allora il negativo va sempre a massa e quindi deve essere collegato anche al motore fissato sulla massa e collegato tutte le masse devono essere insieme non importa se con prolunga adesso io non ho messo prolunga qui però l'importante è che questo circuito sia chiuso così dopodiché il giallo si isola si uniscono il blu e il verde e a questi occhielli si porta il filo di uscita del regolatore quindi quello che porta la corrente stabilizzata a 12 volt per aumentare per alimentare l'impianto io consiglio di fare un pezzettino di fargli un occhiello in maniera da sfruttare la scatola dei fili originali per fare un lavoro pulito e questo resta così questo isolato il rosso e lo spegnimento ne abbiamo parlato il nero a massa finito poi passiamo alla parte più antipatica questo qui è il devio luci eccolo qui allora naturalmente il rosso che è lo spegnimento va qui a questo eccolo qui come al solito così era e così rimane si spegne col tasso laterale di massa cosa cambia siccome questo è un interruttore che è fatto in modo di cortocircuitare bisogna tagliare la pista che va al commutatore del faro alto quindi questa parte rimane intera qui va tagliato se ne toglie un pezzetto con delle tronchesine si taglia qui e qui si lascia un ecco si interrompe dopodiché si fa un ponticello si fa un ponticello dal centrale del commutatore a questa presa qui che sarebbe dunque la numero 3 perché sono numerate eccola qui quella più alta comunque perché adesso poi girandolo diventa difficile ecco questo qui è come si presenta sulla vespa poi ci va il coperchietto no il ponticello va fatto nella parte alta da qui a qui un ponticello diritto facilissimo da realizzare si salda finito poi la massa che arriva qui perché questa qui è la parte che arriva eccola qui la parte che va al commutatore escono dal manubrio i fili arrivano qui dietro la massa diventa di troppo e si di isola dopodiché allora il bianco che va al campanello il clacson cosiddetto anche se clacson non sembra il suono che fa va nel centrale perché deve deve rimanere in serie questo qua come funziona il campanello vedete eccolo qua è in serie per cui quando è cortocircuitato quando è a riposo e nel momento che viene staccato la corrente è costretta a passare in serie per raggiungere le luci allora cioè per passare attraverso la resistenza delle lampadine ecco quello è per quello si abbassano le luci quando suona il campanello quando suonato il clacson interferisce per quel motivo è sempre in serie su tutte le vespe così è tranne quella corrente continua tipo gl che hanno la batteria dopo di che allora qui abbiamo detto va il ponticello qui il bianco del clacson e poi all'ultimo il giallo la posizione il nero rimane fuori dopo di che il verde al suo posto dove andava in origine rimane e viola e marrone che sono quelli che fanno capo all'abbagliante e all'anabbagliante non è che abbia importanza poi o l'uno o l'altro l'interruttore orizzontale adesso c'è la viaggio dice uno schema io neanche lo ricordo ma non ha nessuna importanza perché vuol dire solamente avere un abbagliante in questa posizione o nell'altra e questo è finito qual è l'unico inconveniente l'unico inconveniente non ovviabile senza fare altre modifiche è solo che il clacson non può suonare in questa maniera a luci spente però bisogna circolare con le luci accese chi se ne importa piccolo danno veniamo allo stop ora intanto bisogna cambiare interruttore di stop si potrebbe anche modificare ma non vale la pena se ne deve prendere uno come questo che renda aperto il circuito di stop a pedale in posizione di riposo quando è a riposo il pedale quando questo pulsante è schiacciato qui vedete che il contatto non c'è e il contatto c'è quando si preme lo stop e viene rilasciato il pulsante e quindi il circuito si chiude quello originale funziona al contrario perché il circuito deve essere chiuso a pedale in posizione di riposo in maniera che la bobina relativa venga cortocircuitata noi abbiamo l'esigenza opposta però non basta sostituire l'interruttore bisogna anche fare una piccola modifica all'impianto allora si collegano i fili del nuovo interruttore all'una e all'altra linguetta dopodiché i fili che arrivano blu e nero che sarebbero questi due questi due sono quelli originali che arrivano all'interruttore si isolano e si lasciano morti lì in modo da poter ripristinare il tutto all'occorrenza i due fili invece che abbiamo attaccato al nuovo interruttore li facciamo passare li lasciamo lunghi e arriviamo sotto al serbatoio sotto al serbatoio intercettiamo eccolo qua lo troviamo così se il serbatoio è qui qui lungo l'interno del telaio in direzione fanale posteriore troviamo questo filo inguainato che contiene tre cavi il giallo che è quello della posizione il nero che è la massa e l'azzurro che è quello dello stop allora lo tagliamo in una posizione che ci fa comodo tagliamo la guaina liberiamo il filo azzurro ne tiriamo fuori un'asola che che ci possa permettere di lavorare tagliamo il filo e in serie uniamo i cavi che fanno capo l'interruttore quindi sarà interposto questo interruttore a questo è come se l'interruttore fosse c'è la prolunga ma l'interruttore come se fosse direttamente sul cavo dopodiché il gioco è fatto quando si schiaccia lo stop viene chiuso il circuito e lo stop si accenderà se ti è piaciuto il video lascia un like e condividilo con i tuoi amici e ricorda white one racing non è un'officina ma un'associazione sportiva dilettantistica che prepara motori solo a fini sportivi e solo ai propri associati